Jeep Renegade, car tablet, 4GB di RAM, ROM 64GB, gestione vocale, apri la radio, traccia successiva, traccia precedente, aumenta volume, aumenta volume, apri il film. Attiva la navigazione, apri il browser, abbiamo appena visto la gestione vocale, ci sono tanti altri comandi, basta dare l'ordine e lui esegue. Questa è la home, abbiamo visto gestione audio e video tramite USB, via voce Bluetooth, streaming musicale, visualizzazione aria condizionata, equalizzatore. Accensione luci, si abbassa l'intensità del display, spingiamo le luci e torna tutto come prima. Sport 4K Sport 4K Aumenta volume, aumenta volume. Sensori di parcheggio, quando c'è un ostacolo entrano in funzione, se li vogliamo disattivare tramite il pulsante li disattiviamo. Sì, recuperata. Sì, recuperata. Qui, basta dare questi comandi e funzionerà tutto tranquillamente. Play Store Qui, stiamo su Google. Viale Palmiro Togliatti 600 Ecco una mappa di Viale Palmiro Togliatti 600, 172 Roma RM Impostazioni veicolo, qui possiamo andare a settare tutti gli option della macchina e impostare le funzioni veicolo. Come vedete sono tante impostazioni a secondo degli optional. Abbiamo recuperato anche la USB originale più un'altra USB nel cassetto portoggetti. Qui abbiamo altre informazioni di viaggio, chilometraggio, carburante, tutto in automatico prende. E poi abbiamo recuperato la retrocamera originale. Abbiamo la linea guida attiva, sensori di parcheggio, se li vogliamo disattivare, disattichiamo il radar e si sentirà il beep. Vedo i virà. Purpondi? P 주�lya pronuncii. Vistero. 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 Virà.